Il futuro dei 302 lavoratori del CARA di Mineo rimane incerto dopo il cambio d'appalto previsto per fine settembre. Le aziende subentranti hanno già dichiarato di non applicare la clausola sociale 51 del contratto nazionale di lavoro che prevede l'assorbimento di parte del personale. Secondo Antonio Santonuccito, segretario regionale SNALV, dal capitolato di appalto e dalle specifiche tecniche integrative si evince una discrepanza tra il personale previsto e i servizi da attuare. Per Santonuccito è opportuno attivare i fondi FAMI, il Fondo Asillo Migrazione e Integrazione 2014-2020 per assorbire eventuali esuberi. L'appalto prevede modalità diverse ma noi sosteniamo, così come prevedono le clausole sociali, il passaggio di tutti i lavoratori con le nuove aziende. Poi, casomai, se ci sono esuberi si può discutere su come gestire questi esuberi. Ma dire a persone che hanno lavorato lì da anni, peraltro con estrema professionalità, riconosciuta anche dalla prefettura, da domani il gioco è finito, è andato a casa, è molto complicato. Peraltro gli ospiti negli ultimi anni sono stati intorno al 2004, adesso l'appalto è per 2004, quindi il fatto che adesso ce ne sono qualche centinaia in meno non significa che domani non possono aumentare. Anche se il ministro dice che lo vuole chiudere, ma questa è una scelta. Quando decideranno questo, si deciderà di mandare tutto a casa. Fino a quando questo non è deciso, ma è solo un fatto annunciato per televisione, nelle dichiarazioni, l'appalto è per 2004 e chiediamo il numero per 2004. I lavoratori hanno tenuto oggi un presidio sotto la sede catanesi della regione siciliana, dove si è tenuto una riunione indetta dal centro per l'impiego.